Vediamo che il treno veramente massimo rilassamento, c'è la possibilità di leggere, siamo arrivati a... Non fai code, quando arriva il treno prendilo a chi all'ultimo momento tanto parse, esatto, e poi ci si isola, perché si può fare? Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie Anna. Il treno è sempre il treno, prendetelo. L'ax, cioè uno sul treno va, lo porta, non ha bisogno di parcheggio, non c'è bisogno di... non c'è stress, ecco, già ne abbiamo tanto di stress. Adesso è diventata una cosa santa il treno, perché ci aiuta ad andare al San Raffaele. In automobili, ma però preferisco andare col treno. Il treno è sempre il treno. È una cosa meravigliosa, guarda.